Ciao, amico LaserJRB, oggi ho ricevuto questa grande box con la nuova foggiatura di Foxalian Razor, 20W. Ti darò un bilanciamento molto rapido dell'unboxing e dell'assemblamento, e poi proviamo a testare il prodotto. L'engraver è arrivata disassemblata in 5 parti, i 4 pezzi che preparano il frame e i X-assi preassemblati in una pezza. Non c'è anche bisogno di montare il bilanciamento, perché sono preassemblati e pretenzionati. Tutti i pezzi di assemblamento sono organizzati in una box dove ogni compagno è labellato per aiutare a identificare le parti. Questo fa l'assemblamento una brisa. In tutto, mi costruiva meno di 15 minuti. È sufficiente preparare le parti varie parti sulla tavola, perché saranno assemblati, e poi mettere il filo e assemblare. Se avete qualche dubbio, comunque un manuale molto chiaro è servito dove ogni passo di assemblamento è documentato da foto e descrizione. dopo aver assemblato il frame, prendete il X-assi e lo inserite nel supporto di due parti e lo fixate con il screw. Inizialmente preparate le parti che saranno usate per montare il laser sul slide focussing. qui è questa bellissima macchina fatta con il miglior materiale e con guida aluminio un prodotto di potenza generoso, un prodotto di sicurezza, e dentro del screw box c'è una nuova USB drive con il software. Il controllo di controllo è un controllo proprietario che monta un controllo STM32 con un controllo STM32 Ci sono strutture limiti per ruotare, anche se non sono soltanto vedi. E tutto il filo è legato per evitare un errore di assemblamento. La cosa che mi piace la maggiormente è il gestione smart di tutti i cavoli. Non c'è un cavolo di voce e tutto passa all'interno del profilo metallo o nella guida del rack. Questo eliminata il rischio di i cavoli arrivare sotto il laser o arrivare attaccati con il meccanico o avvenire due a la bandiera. Usare il Foxalian è molto semplice Focusingando il nodo, piegare il tuo laptop, aggiungere il design in LaserGRBL e poi sei prontato per mandarlo alla macchina. Il laser è molto veloce, potente, potente e dare un risultato accurato con ogni design che ho testato. Potete trovare un testo di cutting in un altro video che ho fatto. Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.